Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi, caffettiera già è pronta, ho allestito un piccolo tavolo, non lo so, ho rimediato qui fuori, era buttato lì, e in più ho trovato anche questo qui, che è uno di quelli là da campeggio che si apre, era buttato proprio qua davanti, lo utilizzo per poggiarci insomma gli attrezzi, le cose. Adesso mi vedete già bello sudato perché mi sono caricato, dove stanno, anche là, sabbia, ghiaia e cemento che l'ho messo dentro perché magari se piove non si sa mai dove correre a spostarlo. Qual è l'obiettivo di oggi? L'obiettivo di oggi è utilizzare questa qui, questa è una trivella come vedete a mano, è a diametro di 15 se non sbaglio, se non ricordo male, e perché cosa la dovremmo utilizzare? La utilizziamo per montare esattamente quei pali lì dietro. Ho fatto una ricerca prima di acquistare proprio questi, perché questi paletti? Sono alti 2,25 metri, quindi li posso mettere tranquillamente mezzo metro sottoterra, in modo tale che più o meno la recensione verrà fino a 1,80 metri, ma chi c'è deve saltare sopra, voglio dire. Bene, questi determinati paletti li ho comprati non a un brigo, non a uno smorso, non a un negozio, li ho comprati ragazzi su Amazon. Purtroppo ho cercato in tutti i modi di andare in qualche smorso, in qualche rivenditore, anche privati, così quant'altro, ma il prezzo è troppo concorrenziale. Questi paletti, ora vi dico quanto costano, li ho confrontati con quelli dei vari brigo, stavano intorno ai 10,50, 7,30, 8 euro, insomma, sopra i 7 euro. Questi di Amazon me li hanno portati direttamente dentro casa, non vi dico il corriere voraccio, però me li hanno portati direttamente dentro casa, ragazzi, 6,30 euro l'uno. Cioè, so i stessi, solamente che costano 1 euro o meno l'uno, ne ho dovuto comprare 60, so 60 euro risparmiati, ma per tutto è bene, meglio in tasca piuttosto che regalarli. Questi paletti li andremo a montare, a breve, nella parte alta, dove intendo fare, insomma, l'orto, dove intendo mettere le piante e quant'altro. Per quanto riguarda, invece, la parte bassa qui, faremo una cosa un po' più carina, insomma, magari mattonata, magari con una grata, una feriata. Però questo tutto più avanti, ovviamente. Adesso la cosa che mi preme è fare sopra la recensione, in modo tale da poter iniziare a capire dove mettere le piante e dove mettere gli animali. Come vedete, insieme ad un geometra, che vi consiglio sempre di utilizzarlo in questi casi, perché i paletti li mette secondo il GPS che ha lui, tralasciando che fa zigzag, ma perché c'è sta la frasca qua e quindi non va dritto. Ho utilizzato questo qua, 50 centesimi, insomma, ma poi se avete della corda a casa, utilizzate questa. Stendendo una fila lunga, io partirò ovviamente da sopra, in sotto, perché, come ho detto adesso, questa parte qui del giardino dovrò tutta quanta farla in modo carino, insomma, vivibile. Non devo metterci una rete da orto. Quindi, da più o meno fine della casetta, lì, insomma, in su, andrò a mettere questi paletti. Ovviamente, i paletti li andrò a interrare, oltretutto darò una piccola cementata, perché qua ci sono i cinghiali. Quindi, per evitare che mi sdraiano i paletti tutti quanti, andrò sia a mettere il cemento, sabbia, cemento, ghiaia, dentro ai buchi, dopodiché, prima di mettere la rete, andrò a fare un leggero solco, tutta lunga tutta la fila, e interrerò parte della recensione che andrò a mettere. Perché questo? Perché le volpi, vabbè che quelle sartano, però, le volpi, intanto, hanno da lavorare in più, quindi salteranno, ma, già che, insomma, non mescavano sotto la recensione. I cinghiali, cerchiamo di mantenerli, insomma, quanto più lontani possibile, anche se è difficile. Ho pensato anche che, oltre alla rete, che utilizzerò una rete elettrosaldata, che deve ancora arrivarmi, e utilizzerò anche la rete quella là per fare, appunto, i massetti, i massetti delle case, la rete quella elettrosaldata, fatta quella con i tondini di ferro, insomma, in modo tale che il cinghiale, quando andrà, insomma, a cercare di romperla, prenderà prima quella grossa e poi quella fina, non entrano, insomma. Questo, tutto questo, ovviamente, è sempre nella parte alta. Per quanto riguarda sotto, metto i mattoni e i cinghiali, o c'hanno il martello pneumatico, oppure non entrano. Ora, con l'aiuto di un metro, vado a prendere la misura da questo tagliente qui a 50 centimetri, che è la profondità che voglio usare per interrare i miei paletti, e vado a mettere un pezzetto di nastro, insomma, in modo tale che so quando sono arrivato a 50 centimetri, sempre più o meno, eh. Ovviamente, un centimetro più, un centimetro meno, una martellata sopra il picchietto, entra dentro la terra ed è risolto quelle misure. Adesso andiamo sopra e iniziamo a fare i buchi per la recensione. Per iniziare a fare i buchi, ragazzi, inizierò da più o meno questo paletto qui. Questo è un paletto che sta all'incirca a 3-4 metri, anche 5 forse, dall'angolo della casetta, e qui mi servirà perché dovrò fare un muro di contenimento per, diciamo, la collinetta. lo dovrò fare a 2 metri, 2 metri e 50, se riesco anche a 3, dalla casetta, e all'incirca alto tanto, quindi è sempre alto 2 metri e 30 circa, che andrà da lì dove iniziano i bandoni rossi, fino più o meno a 2 metri dall'angolo questo. Il primo buco l'ho fatto, è proprio qui, vi faccio vedere con il metro quanto sono andato in profondità. Esattamente, ragazzi, 52 centimetri circa. Perché così? Perché semplicemente poi dovrò aggiustare con le misure. Adesso per il secondo buco utilizzo come unità di misura uno dei paletti. Eccolo qui. L'ho messo, praticamente, se vedete, la riga dei due paletti precisamente dritto, perché tirandola, eccola qua, vedete, dritto, e farò un palo, quindi ogni 2 metri e 20 circa. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere come faccio il buco per mettere dentro il paletto, con questa trivella manuale. Consiglio, non spingete troppo con la trivella, altrimenti non ce la fate a tirare su la terra in eccesso che viene portata via dalla trivella stessa. Quindi, mettete giù la trivella, fate piano piano così, cercando di stare dritti ovviamente, una volta presa la misura, questo lo possiamo spostare e non spingete troppo. Ovviamente il primo strato ci saranno tutte le radici di queste piante qui, quindi sentirete molto strappare, ma piano piano viene, è un lavoraccio, ma qualcuno deve farlo. Dopo che avete preso un po' di terra da dentro, tirate fuori la trivella e sbattetela, in modo tale che la terra, in eccesso che è qui, vada via. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se la trivella manuale non riuscisse ad andare più giù, perché magari è compatta, come in questo caso, date un po' di forza, semplicemente mettete un pelino e poi continuate a girare. Piano piano, non temete, cariate giù. Come vedete adesso la terra è molto più farinosa, perché? Perché andando giù, questa è argilla, andando giù la terra che fa non assorbe acqua, quindi tende a lasciarla sul livello superficiale, insomma qui dove è l'erba, e la parte sotto è sempre secca, quindi risulterà più dura del normale e quando andate a scavare sotto, ne troverete la farina praticamente, con molta pazienza ragazzi, prendiamola con filosofia perché ci hanno chiuso le palestre e quindi qualcosina toccherà pure fa. Il buco è finito, adesso riposiziono il mio paletto di contrasto, chiamatelo come mi pare, sto a morire. Il buco è finito, adesso riposiziono il mio paletto di contrasto, e allora riposiziono il mio paletto di contrasto, a tutti i nostri dati di contrasto, e allora riposiziono il mio paletto di contrasto, tra i nostri dati e allora riposiziamo il mio paletto di contrasto, e allora riposiziamo il mio paletto di contrasto, ho un'erba che si riposiziamo da una gallina di dissemerga. ragazzi c'è stato questo particolare buco che è un po ostico diciamo come ho cercato di risolvere col fatto che la trivella non mi gira all'interno perché è molto dura sotto la terra e non so manco perché qua dovrebbe essere tutta argilla insomma quindi dovrebbe sparinarsi abbastanza bene allora mi sono armato un picchetto come vedete così lo infilo dentro io do qualche martellata per rompe diciamo la crosta e poi girare un pochino è un po laura show però se era facile nera per noi così una volta essere andati sotto all'incirca dei 5 6 10 centimetri quello che vi serve insomma potete riprendere il lavoro con la trivella pare che sta a fare buca armare mezza la sabbia e le guarda quindi è proprio un blocchetto tipo non avete mai giocato col das da ragazzini o corpongo che poi diventa duro un sergio comunque ragazzi ve ne accorgete quando state lavorando con la trivella messa male per il semplice fatto che la trivella ha una sua angolazione per il taglio sotto insomma quindi se voi la inclinate così o così la trivella non trivella insomma bene oppure so se si può dire la trivella non trivella però capite che se questa qui è l'angolazione della trivella se non la mettiamo così questa haiaman trivella male deve sta dritta testa quindi ve ne accorgete praticamente subito se andate a mettere la la trivella in modo errato al momento piazzo un altro po di filo per andare ancora un po più su a mettere a fare altri buchi insomma ho già posizionato come vedete la trivella per il prossimo buco su c'è l'altro picchetto che ha messo il geometra e adesso con il nastro arrivo fino a su adesso posso riprendere a fare i miei buchi ciao ciao Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione! 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 vecchie del 1936 questo mi ha detto lui poi non si è fatto intervista quindi non posso spiegare meglio e poi fa insomma ne mette una sopra l'altra e in base a quei punti cardine che a lui di riferimento riesce a mettervi con certezza il paletto di confine una volta fatto così allora potete tirare la corda come ho fatto io ho usato un nastro però la corda un nastro quello che ci avete e poi mettere tutti quanti i pali alla distanza che preferite io ve lo consiglio soldini perché diciamo che proprio gratis non è venuto perché si è preso 800 euro vorrei dire ve lo dico se dovete fare un paragone con altri geometri il mio si è preso 800 euro quindi vedete voi vi consiglio ovviamente di trovare un geometra di zona in modo tale che non si deve spostare da un comune all'altro oppure da una zona all'altra e vi mette in più la la trasferta diciamo ragazzi è l'una meno 10 momento momento è l'una meno 10 e ho ho finito di fare i buchi sono arrivato fino in cima rispetto di là che hanno bloccato questi questi alberi e purtroppo me devo inventare qualche cosa ho pensato invece che fa il buco lì con la trivella dei picchiettalli e basta perché c'è lì è veramente difficile troppi troppi rami troppe cose dopo di che vuoi riprendere finiti gli alberi un po più su e arrivare diciamo qui perché mi sono fermato qui e non sono andato oltre perché ripeto il mio confine è lì sopra dove c'è quell'albero lì bianco questo qui perché lì sopra c'è una strada il mio confine quindi è lì sopra ma non ci arrivo per un semplice fatto il semplice fatto ragazzi è questo queste so impronte dei cinghiali poi fate come vi pare potete di quello che vi pare ma questi so a casa mia so proprio cinghiale e non mi sembrano manco troppo piccole e oltretutto sono recenti perché è stata vedete scavata la terra mentre era bagnata quindi questi qua sono passati da qua quindi dal confine della vicina e vedete ci hanno proprio il sentiero ci hanno guardate quindi io pensavo appunto di fermarmi qui questo è un altro picchetto poi quello mi ovviamente mi servirà per arrivare fin su questa stradina di lasciarla e la recinzione farla partire da qua certo merode perché vedete che è tutto in salita poi arrivati all'alberi qua spiana spiana abbastanza bene mi potrei prendere altri quattro metri di piano ma purtroppo adesso come adesso a ci sono tutte queste frasche da leva e a mano è proprio improponibile b la tutto così e da sistema pure la c c'è stanno i cinghiali e niente non mi resta canna pranzo adesso data la situazione direi che è luna dove c'è ne tutto quanto per far pranzo e niente quindi mi fermo esattamente su questo buco qui cerco dall'altra parte di arrivare più o meno alla stessa altezza poi magari se riesco appunto a levare qualche frasca qua qualche cosa magari faccio altri due tre buchi e dei cinghiali faccio un sentierello su che ho paura che oltretutto mi sfondano tutta la recensione e vi dico che costa pure abbastanza che è meglio evita insomma poi per quanto riguarda il basamento della rete ci ho qualche idea che mi giro in testa e devo un attimo vedere appunto guardate qua ci sono tutte queste canne come vedete non sono strappate sono tagliate perché sopra la strada qualche furbacchione ha tagliato le canne per passare bene con la macchina con quello che gli pare e poi la tirate tutte le due sotto guarda la gente proprio vabbè chiudiamo questo questa piccola parentesi pausa pranzo e riprendiamo ragazzi non faccio più mi sono collato adesso un secchio il secondo eccolo la pieni d'acqua per fare appunto la massetto insomma sotto ai paletti li ho messi tutti come vedete sono tutti storti perché l'ho solo infilati lanciati dentro le buche adesso con la livella e la mazzetta io do qualche colpetto sopra in modo tale che si mettono dritti e li metto in bolla insomma in modo tale che non stanno né così né così stanno dritti poi voglio dire più o meno è il recinto dell'orto quindi pazienza insomma qua ho tentato invece di tirar il nastro questo qui ma senza grossi risultati perché lì ho cappottato quattro volte anzi peccato che non ho fatto il video se non faceva due risate ma adesso vi faccio vedere quando riprendo fiato come faccio e la mista insomma della sabbia al cemento ghiaia e tutto quanto ovviamente io ho terminato di mettere i pali lì proprio lì in quel preciso punto per un motivo perché lì poi ci dovrà dovranno essere fatte all'incirca due livellette per arrivare al piano di sopra insomma diciamola così e poi qua lungo tutto questo nastro non farò una recensione come quella pali e rete ma qua fra una cosa di più carino questa questa insomma è fatta così però più o meno quei mattoni di dufo fatta insomma bene e poi sopra una bella ringhierina insomma perché questa qui sarebbe il giardino diciamo della casetta che questa casetta da lì questo qua tutto giardino e come vedete fa schifo perché è pieno di calcinacci e deve venire a pulire la ruspa fino alla dietro poi dietro la casetta ci sarà da fare un muro di contenimento appunto della collina diciamo alto all'incirca due metri in modo tale che riesce a contenere per quanto possibile e poi due livellette per arrivare al piano di sopra e su questi due livellette faremo l'orto mentre sul piano di sopra da qui a qui sopra faremo tutti i alberi e poi alla fine sopra dove spiana metteremo gli animali questo è il progetto adesso tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ma al momento armiamoci di badile o pala o chiamatela come pare di sabbia di ghiaia e di cemento in modo tale da andare a sistemare questi pali so sporco come non so che quindi armiamoci di santa pazienza e di pala e soprattutto ricordatevi che la sopra c'è un dislivello all'incirca di 30 metri quindi è bello in pendenza e io consiglio fate le queste qui le come si chiamano vabbè i secchi questi qua da muratori ma non mi viene il nome specifico io adesso impasterò qui a terra come già ho impastato per gli altri pale lì e vi faccio vedere come l'ho fatto bene come avete visto io sopra ho portato i secchi con l'acqua perché questo perché qui mi limito semplicemente a girare insomma l'impasto per poi metterlo dentro ai ai secchi questi qui e poi portarlo su a mano c'è un cane questo cane del vicino e viene sempre qua ma baia però è carino e simpatico bello ciò va bene mettiamoci al lavoro è un sacco di ghiaccio Grazie a tutti. Ragazzi, la proporzione giusta? La proporzione sbagliata? Semplicemente tutti i paletti che ho fatto non si muovono e questa è la proporzione che ho fatto per quelli, quindi penso che vada bene. Poi, io non faccio il muratore, però più o meno è quella la proporzione, è mezzo d'acqua, uno di cemento, due di sabbia, due di ghiaia. Poi, fate un po' voi, magari qualcuno lo può scrivere qua sotto nei commenti se è del mestiere. Per me è così, per regge i pali e una rete, ma più che bene, guardate. Ora vi faccio vedere, tanto che prima io bagnerò il buco, dopo di che metterò una mezza cucchierata di cemento a presa rapida, perché c'è pure quello. Dopo di che ancora, sarà diciamo una mezza pozzetta d'acqua, ci getterò dentro quella e la lascio così, non gli faccio niente, tanto tra l'umidità che prenderà qua l'aria aperta, più l'acqua che c'è sta dentro e il cemento a una certa tira. Quindi non vi preoccupate di questo. Comunque adesso mettiamo dentro i nostri secchi e portiamo di sopra. Ok ragazzi, armatiti una livella, questa ho presa a Lidl quando c'era l'offerta, e una mazzetta. Questa la appoggiamo un secondo, prendiamo il nostro palo, lo mettiamo al centro del buco, poi io sono andato a occhio, quindi... Do due colpetti in modo tale che rimane fermo, la mazzetta adesso non serve più, e andiamo con la livella. Perfetto ragazzi, il nostro palo è in bolla, preciso, perfetto, non lo muove nessuno, anche perché l'ho battuto a terra, insomma, non si muove. Adesso lo devo fare per tutta quanta la fila. Ragazzi, mi sono messo il cappellino perché inizia a tirare a vento. Comunque i pali, come potete vedere, li ho messi tutti dritti, più o meno. Comunque abbastanza dritti, anzi, cerco di mettermi qua sulla linea dei pali. Dai, ci sta su. Si vedono, no? Sono abbastanza dritti. Diciamo che ovviamente non è il mio mestiere, come neanche il muratore, come neanche l'elettricista, nessuno è il mio mestiere. Però i pali ci stanno, i pali sono dritti, più o meno, sempre più o meno. E adesso non mi rimane che cementarli. Quindi, dall'altra parte, mi sono un attimo fermato, come vi ho detto. E adesso abbiamo, pronti qua, acqua, cemento, questo qui abbiamo fatto noi la mista adesso di sotto con la pala. E questo è cemento a presa rapida. Perché questo? Io adesso vi faccio vedere, qui nella buca, metterò un po' d'acqua in modo tale che ci sia tipo una sorta di piscinetta, anche perché questa terra non drena, dopodiché metto una cucchierata di questo cemento a presa rapida e poi ci getto dentro la mista che abbiamo fatto di sotto. Eccoci pronti ragazzi, scusate l'inquadratura ma mi sono attrezzato, al meglio il poteco. Come ho detto, un goccino d'acqua e questa la mettiamo da parte. L'acqua è rimasta lì sotto, non si è mossa. Metto una mezza cucchierata così, la vedete, di cemento a presa rapida, così da sporcare un po' tutto. E poi ci vado a gettare dentro questa. Fin quanto getto questa, più o meno a occhio ragazzi, deve fare un micro basamento almeno così, quindi io con questa qua, penso che faccio tre, al massimo quattro pali. E per finire aggiungo un altro po' di cemento a presa rapida. Poi se volete sassi, se volete pietre, quello che vi pare, tanto deve fare mappa insomma. Cioè deve fare una sorta di tappo sotto, poi andremo tutto a richiudere con la terra dopo che abbiamo posato anche la rete. Adesso mi dedico a tutti gli altri pali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.